l'odissea è il secondo poema dell'epica classica e arriva dopo l'iliade e come l'iliade è attribuito a omero questo personaggio mitico di scrittore bate cantore cieco che probabilmente declamava a memoria ovviamente queste narrazioni mitologiche accompagnandosi con la lira e si tratta di un poema che viene dopo appunto l'iliade cioè il poema di ilio di troia che racconta la guerra di troia ed è sostanzialmente un poema un poema di guerra ed è da questo punto di vista molto più sviluppato dal punto di vista tematico è attribuito a omero ed esiste la questione america in primo luogo in quanto si tratta di un romanzo che per certi versi è molto diverso dal punto di vista stilistico e tematico ha in comune con omero praticamente ben poca cosa perché l'iliade è soprattutto una storia di guerra mentre invece l'odissea è soprattutto una storia di viaggio una storia in cui si passa da un viaggio di ritorno a casa ulisse che il protagonista odisseo sarebbe appunto il nome greco di ulisse che è uno degli eroi che combattono la guerra di troia ed è diciamo il re di itaca che è un'isola a largo delle coste greche italiane e praticamente è ulisse l'astuto non a caso è proprio a lui che viene attribuita l'ideazione del cavallo di troia che sarà appunto lo stratagemma con cui finalmente dopo dieci anni di battaglie i greci gli achei riescono ad avere ragione dei troiani facendo loro credere che se ne sono andati e lasciando appunto questo cavallo farcito di di guerrieri che dopo che i troiani avranno abbattuto le porte scei avranno portato all'interno della loro città questo cavallo pensando che sia un tributo agli dei faranno una grande festa e saranno sorpresi durante la notte da questi guerrieri che metteranno troia a ferre a fuoco la storia di ulisse è quella del ritorno di ulisse a casa da troia passando diciamo attraverso il mare ceo e poi invece che ritornare ad itaca che sarebbe stato relativamente rapido come tratto di mare siccome appunto ulisse ha attirato la rabbia del dio del mare sarà costretta ad un viaggio lunghissimo non a caso di sea come termine ha preso proprio il significato di una serie di una serie di difficoltà un viaggio tortuoso vedete praticamente ulisse passa in mezzo passa attraverso tutto il mare mediterraneo a proda all'isola dei lotofaci che sarebbe l'odierna gerba a largo della delle coste tunisine poi finirà nel mar tirreno e nel mar tirreno farà una serie di incredibili viaggi un po per tutto il mar tirreno poi si dirige si dirigerà fino allo stretto di civilt terra per poi tornare indietro e approdare soltanto alla fine di questo lunghissimo viaggio durato anni e anni a corfu nella terra dei feaci e quindi sbarcare a itaca e ritornare a casa in realtà l'odissea mette insieme nei 12 mila versi che compongono questo poema articolato in 24 libri mette insieme una serie di leggende tre nuclei narrativi almeno non a caso il primo nucleo narrativo dell'odissea comprende la cosiddetta telemachia telemaco è il figlio giovane dunque dell'eroe pulisse e nella prima parte dell'odissea si racconta appunto dei suoi viaggi alla ricerca del padre perché il trono del padre è minacciato dai proci che sarebbero i pretendenti alla mano della madre di telemaco penelope che prende tempo dispacendo appunto la la famosa tela di penelope che appunto tesse di giorno e e poi disfa durante la notte per tirare il più possibile a lungo questo questo momento in cui dovrà scegliere il suo pretendente nella parte invece che arriva dopo appunto la telemachia c'è il secondo nucleo narrativo dell'odissea che comprende appunto le avventure di ulisse che ulisse racconta quando a seguito di un naufragio approda appunto a sulle coste sulle coste della terra dei feaci dove ricorderà dopo aver pianto sentendo una edo che raccontava la fine di troia e l'inganno del cavallo che appunto è raccontato nell'odissea e non nell'iliare è raccontato anche all'interno dell'eneide che è il terzo poema importante dell'epica classica però opera fondamentale della letteratura latina non greca come le prime due parti e racconta tutte le sue periclinazioni compresi gli episodi più famosi che tutti conoscono anche senza aver mai letto l'odissea ovvero per esempio quello che avviene nella terra dei ciclopi dove ulisse ha a che fare con il ciclope che si chiama polifemo che poi dopo aver catturato lui che è curioso di vedere come è fatto un ciclope e la sua ciurma e dopo averne mangiati diversi verrà cecato da ulisse che gli dirà che si chiama nessuno e quindi alla fine quando gli altri ciclopi sentiranno polifemo che si lamenta perché l'hanno accecato lui dirà che è stato nessuno a fargli male e quindi gli altri non accorreranno consentendo a ulisse di andarsene e poi un altro episodio famoso è quello in cui ha a che fare con la maga circe che a un certo punto trasformerà tutta la ciurma di ulisse nel in porci e poi passando dalle parti di scillo e caribbi nello stretto di messina odierno lui sentirà il canto delle sirene un altro episodio famosissimo è quello in cui lui si fa legare a un albero della nave facendo mettere la cera nelle orecchie dei dei suoi marinai perché lui invece vuole sapere com'è questo incredibile canto armonioso che costringe marinai a tuffarsi in mare ed annegare e nella parte finale del dell'odissea che è come ho detto sostanzialmente un poema di viaggio qui vediamo un'immagine che ricorda appunto il famoso episodio del canto delle sirene lui ritornerà a itaca sotto mentite spoglie e farà una straccia dei proci che sono gli attentatori del suo trono anche qui c'è un episodio famoso quello della gara dell'arco che lui diciamo a cui partecipa sotto le mentite spoglie di un mendicante in cui appunto lui è stato trasformato e c'è il bellissimo episodio del del cane arco che muore riconoscendo il padrone nonostante lui appunto sia sotto ammantato in spoglie piuttosto diverse e poi morirà subito dopo qui osserviamo appunto il proemio della dell'odissea che è questo narra mio musa l'uomo dall'agile mente che a lungo andò vagando poiché cadde troia la forte città e di molte genti vide le terre e conobbe la natura dell'anima e molti dolori patì nel suo cuore lungo le vie del mare lottando per tornare in patria coi compagni che per la loro follia come simili a fanciulli non potesse oltrarre alla morte poiché mangiarono i buoi del sole figlio del cielo che tolse loro il tempo del ritorno questo narrami o dea figlia di zeus questa è una bellissima traduzione dal greco antico che potete osservare nella parte alta del testo è tradotta da un grande poeta che è insomma è addirittura insignito del nobel salvatore quasimodo quindi è una un poema antico tradotto da un poeta contemporaneo è molto simile se vogliamo all'inizio al proemio dell'iliade anche qui il poeta si rivolge alla musa calliope cioè la musa della poesia le chiede di narrare di raccontargli l'uomo dall'acile mente cioè dalla mente intelligente dalla mente sveglia non a caso lisse è proprio noto per questa sua qualità che a lungo andò vagando quindi che andò vagando come abbiamo visto per il mediterraneo per tanti anni dopo la caduta di troia la città forte che vide di molte centi le terre e conobbe la natura dell'anima e molti dolori soffrì nel suo cuore lungo le vie del mare perché passò per tempeste incidenti avventure varie lottando per tornare in patria con i compagni che per la loro follia come simili a fanciulli non potesse sottrarre alla morte cioè non poter sottrarre alla morte i propri compagni perché avevano mangiato i voi del sole figlio del cielo che tolse il tempo loro del ritorno chiede appunto di narrare questo a alla musa calliope figlia di zeus questo sarebbe appunto il proemio il momento in cui ulisse il momento in cui omero dipana la materia che racconterà e tutte le avventure appunto che seguiranno c'è ovviamente anche il discorso della questione omerica perché questo questo poema antico è molto diverso come abbiamo detto dall'altro è un poema di viaggi è anche un poema dove c'è molto spazio per il fantastico e in cui c'è anche un linguaggio piuttosto diverso e per questo motivo gli studiosi hanno parlato appunto della cosiddetta questione omerica ma tradizionalmente omero è considerato il l'autore di entrambi i poemi classici l'iliare e l'odissea grazie grazie